Allora, ora è finita la gara, siamo un po' più rilassati e quindi facciamo salire qui sul palco la vincitrice della scorsa edizione di TVA di Cantare, Maria Grazia Pazzariello. Ciao cara, benvenuta. È sempre un'emozione averti qui su questo palco. Anche per me, una forte emozione. Allora, questa sera ci canti il tuo inedito? Sì, come un aquilone. Ok, cantiamo e poi magari dopo facciamo quattro chiacchiere. Va benissimo. Un bocca al lupo. Grazie. Scritto in fondo al cuore Un giorno tornerò, nuvola nel sole e poi porta via da me, da questo mio ricordo che ora sa. D'amore come un aquilone, cielo vola su di me bagnando le parole che nessuno potrà mai donare. Stavolta tu avrai da me, da me, da me, da me, da me, da me. Un giorno tornerai, da me, 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 da me. Amore come un aquilone, cielo vola su di me bagnando le parole che nessuno potrà mai donare. Ma uno dovrà poi sentire, sogno la vita accanto a te, amando i tuoi occhi dentro i miei. Ma quel silenzio che separa me e te, ho qualcosa ancora da dire. Come un aquilone, cielo vola su di me bagnando le parole che nessuno potrà mai donare. Se vola tu avrai da me, da me, da me. Grazie. Brava, brava, brava. È sempre un'emozione sentirci cantare. Grazie. Allora, ricordiamo un po' gli autori che hanno scritto questo magnifico brano. Allora, questo fantastico brano è stato scritto da Luigi Brandi e Luigi Pignalosa, con gli arrangiamenti di Alberto Costa. Io so che hai vinto un premio grazie a questo brano. In realtà ho partecipato ad un premio che è Castro Caro. Ho partecipato alla semifinale di Castro Caro con questo brano che è stato molto apprezzato. Purtroppo, insomma, non è andata avanti la cosa, nel senso che non sono passata in finale, però è stata comunque un'emozione cantarlo. È un brano che sento molto e quindi... E ha fatto piacere ascoltarlo sicuramente. Ok, grazie Mary. Grazie e buonasera. Grazie di essere stata qui con noi.